Martedì 11 febbraio, buongiorno a tutti telespettatrici e telespettatori di FanoTV, benvenuti alla Rassegna Stampa, come tutte le mattine alle 7.45 in diretta per leggere insieme a voi i tre quotidiani in edicola con gli inserti dedicati alla provincia di Pesaro e Urbino. Adesso diamo lo sguardo al Santo del Giorno e poi al Tempo. Allora oggi è la Beata Vergine Maria di Lourdes, il sole è sorto alle 7.12 e tramonterà alle 17.32. Guardate le immagini che arrivano in diretta dalla telecamera del Centro Storico per farvi vedere che tipo di giornata ci attende in questa mattinata, una mattinata uggiosa, piovosa con Montegiove che non si vede nemmeno perché è coperta dalla foschia ma anche dalle gocce di pioggia che sta oscurando e sta impedendo alla telecamera di fare il suo lavoro. Il traffico, il traffico qui vedete porta maggiore la rotatoria del Pincio, tanto per intenderci. Il traffico alle 7.46 pare piuttosto comunque scorrevole considerando che a quest'ora arrivano gli studenti con gli autobus e comunque tante persone vanno al lavoro. Insomma, a parte adesso che si è bloccato ma semplicemente perché 100 metri più avanti c'è un attraversamento pedonale che consente agli studenti di andare al campus e quindi ogni tanto blocca il traffico ma come vedete sta ripartendo. Allora, il cielo per oggi sarà nuvoloso, in particolare nella seconda parte della giornata. Avremo precipitazioni deboli e sparse, a prevalente carattere di rovescio, più insistenti nella seconda parte della giornata. Il limite delle nevicate sarà attorno ai 1.400 metri, le temperature stazionarie o in lieve flessione nei valori massimi. Per domani, mercoledì 12, 12 di febbraio, avremo cielo parzialmente nuvoloso con progressiva diminuzione della nuvolosità. Deboli precipitazioni sparse in esaurimento nel corso del pomeriggio, il limite delle nevicate intorno ai 1.300 metri. Le temperature saranno in diminuzione per giovedì 13 febbraio, cielo sereno poco nuvoloso, temperature in aumento. Per quanto riguarda la tendenza nei giorni prossimi, il fine settimana sarà caratterizzato da un promontore di alta pressione seguito da un episodio di garbino, quindi vento caldo, nella giornata di sabato e dal transito veloce di una saccatura nella giornata di domenica. Le temperature per oggi 9 gradi nell'entroterra, 13 lungo la costa, invece 6, quindi per effetto della diminuzione di cui parlavamo prima, 6 a Durbino, 9 a Pesaro, quindi lungo la costa. Cominciamo a proposito di costa, cominciamo dal resto del Carlino, la pagina di Fano che a centro pagina dedica la sua attenzione all'erosione marina e alla missione di Mauro Falcioni, l'assessore ai lavori pubblici che si è recato in Regione, ad Ancona, per cercare di racimolare un po' di soldi. Le casse purtroppo sono vuote, per i 26 comuni della costa ci sono a disposizione 1.600.000 euro, cercheremo, ha detto Falcioni, di sistemare le spiagge comunque prima dell'arrivo della stagione estiva. La cronaca con la scoperta di polpette impastate con pezzi di vetro lasciate vicino al canile comunale, è successo nella zona di Tre Ponti, un signore che portava spasso il suo cane ha trovato queste polpette, ha indagato un pochettino e ha visto che all'interno c'erano praticamente dei pezzi di vetro e quindi, insomma, è stato dato l'allarme e alla fine quello che è successo, poi lo sapete, insomma, sono state avvisate le forze dell'ordine. L'assessore all'ambiente, Luca Serfilippi, parla di gesto ignobile. E' morto il dottor Vincenzo Petitto, è scomparso ieri all'ospedale Santa Croce dove era ricoverato Vincenzo Petitto per quasi 25 anni medico del pronto soccorso, prima e poi del centro di fisioterapia di San Lazzaro che i fanesi ancora ricordano come figura di grande umanità e professionalità. Le esequie si terranno, saranno celebrate oggi pomeriggio alle 15.30 nella chiesa di San Marco. Il medico è giunto a Fanno alla fine degli anni Sessanta, sarà sepolto poi a Venticano, suo paese natale in provincia di Avellino. Naturalmente ai familiari le nostre condoglianze, parlo anche a titolo personale. Andiamo a leggere l'altra pagina del resto del Carlino. Il ricordo di questa amministrazione, solamente le strade piene di buche. Viaggio tra i cittadini sull'operato della giunta Guzzi negli ultimi 5 anni. Tiziana Petrelli ha fatto un giro per la città e ha chiesto cosa ricorderà di questa giunta. Da 8 persone su 10 ci si è sentito rispondere. Le buche, tutti gli altri problemi di Fanno vengono menzionati, sempre e comunque dopo la manutenzione delle strade. E c'è chi dice che di questa giunta sono stati meglio i primi 5 anni, molto meglio dei secondi, perché almeno si è fatto qualcosa per i giovani. Sulla manutenzione delle scuole invece i giovani del centro-destra rispondono a quelli del PD. Quindi la colpa, se la manutenzione delle scuole sono in questo Stato, in sostanza la colpa è della provincia. Non è stato fatto mai nulla, benché esprimessimo come città ben tre assessori. Quindi il coordinamento di Giovane Italia di Fanno risponde ai giovani democratici. Andiamo sempre, rimaniamo sempre sulla pagina di Fanno del resto del Carlino, perché c'è il viaggio tra i malati dell'ospedale Santa Croce del Vescovo Armando Trasarti. Domani incontrerà la direzione del personale medico. Il Vescovo della Diocesi in questi giorni è in visita ai piccoli e grandi degenti dell'ospedale del Santa Croce. È partito ieri mattina questo tour tra la sofferenza fisica di Don Armando, che ha visitato i reparti dell'ospedale fanese nell'ambito della 22esima giornata mondiale del malato. Oggi naturalmente la sua visita continua. Vi ricordo alle 16 in diretta dalla Cattedrale. Fanno TV trasmetterà prima il Santo Rosario e poi la Messa, dove appunto ci sarà anche il Vescovo Trasarti. Quindi per coloro, visto anche il tempo, che non riusciranno ad essere presenti fisicamente in cattedrale, potranno seguirla attraverso i nostri canali, quindi attraverso il canale 17 di Fanno TV. Andiamo avanti con la rassegna stampa velocemente. Allora, dal resto del Carlino, sempre la pagina di Fanno, l'intervista a Carlo De Marchi di Benecomune. Prima il teatro della nuova piscina, l'esponente delle apette torna poi a ricordare gli investimenti di Banca Marchi. De Marchi interviene sull'ipotesi lanciata dalla Fondazione Carifano di appunto realizzare questa nuova piscina. E poi parla di Babbo Natale Tombari, Carlo De Marchi, il presidente Fabio Tombari della Fondazione, che promette la costruzione di questa nuova piscina. E chi non è d'accordo, peste lo colga, dice De Marchi, che vedete in questa fotografia, in questa immagine, a fianco a un impianto sportivo. Poi, sempre sulla Fondazione, interviene anche Mirko Carloni, del nuovo centrodestra. La Fondazione non deve essere una stazione appaltante sulla realizzazione di un'alternativa, la Dini-Salvalai, interviene anche Carloni, dicevo, del nuovo centrodestra. Gli impianti sportivi, i soldi della Fondazione, i problemi del nuoto sono la prima priorità della città? Pensate, il palazzetto dello sport in questo momento ha una capacità di 700 posti e non serve a nulla. Non so a chi siano attribuite queste parole, però credo che sia un articolo del giornalista, semplicemente una considerazione del giornalista del resto del Carlino. Odissea, di un triestino invece per una multa, una multa che comunque ha pagato, perché per fare ricorso dice avrei dovuto presentarmi di persona, considerando che abita a Trieste, insomma 477 chilometri, immaginate voi le spese. Questo signore, questo cittadino di Trieste, Erio Tosatti, ha inviato diverse email al sindaco di Mondavio, al comandante senza ricevere nessuna risposta e lui, a dire il vero, a Mondavio non c'è mai stato, però evidentemente c'è stato un errore, un refuso, magari si è stata scritta male la targa e quindi si è visto comunque costretto a pagare questa multa. A San Costanzo invece il Partito Democratico si prepara ad una difficile battaglia elettorale, riunione questa sera per discutere delle amministrazioni comunali e gli avversari si sono uniti. Nella fotografia vedete il sindaco di San Costanzo. Andiamo avanti. Malore, questa notizia che arriva da Ancona. Malore, dopo la partita di basket grave, una ragazzina di 13 anni, un dramma in palestra, tre arresti cardiaci per la ragazza, 13 anni anconetana, lotta tra la vita e la morte, sono gravissime le condizioni di Benedetta Moroni, la giocatrice di una squadra di mini basket femminile di Ancona, che sabato pomeriggio si è accasciata sul parquet alla fine della partita. è una notizia che trovate in cronaca sul Carrino Nazionale. Appesero è successo questo, era terminata la partita di un torneo per under 13, quando la piccola Benedetta si è accasciata per terra e per un attimo si è rialzata, per poi crollare priva di coscienza. Ora si trova al regionale di Torrette di Ancona. Sempre per la cronaca il delitto ferri, parla Fatima, Fatima dice adesso Adesso temevo che Donald, il finanzato, quello che ha ucciso, avrebbe ucciso appunto Andrea Ferri, temevo che lui mi uccidesse, la pistola non l'ho mai vista, poi si corregge, l'ho maneggiata. Perché questo? Perché questi tormenti di questa ragazza? Perché le impronte, le tracce, ci sono le sue tracce comparse sulla beretta che ha ucciso Andrea Ferri e da quel momento Fatima, scrive il giornale, è una ragazza tormentata. Fatima ha 22 anni, marocchina, è la ex fidanzata di Sabanov, che sarà sentita in sede di incidente probatorio ed è già stata interrogata altre volte dalla procura. Andiamo a leggere adesso il Corriere Adriatico. La pagina di Fano si occupa degli interquartieri, c'è stata questa manifestazione di protesta l'altro giorno, dove i residenti hanno protestato contro questa opera, questa infrastruttura della quale bisognerà capire appena sarà terminata l'utilità. Lo vedremo, la giudicheremo appena sarà terminata. Nel frattempo le polemiche non si placano, l'interquartieri stravolgerà Poderino, dicono muri davanti alle case e alle scuole, pericolo per il traffico, 10 proposte dei residenti per salvare la zona. Per la riscossione dei tributi, privato al fianco di Aset Holding, cambia la normativa, il sindaco Aguzzi spiega il nuovo meccanismo, all'azienda rimane il 60%, quindi Aset terrà il 60%, il restante 40% invece sarà ceduto ad un socio. C'è stato un bando, adesso vedremo chi sarà questo socio, qualcuno dice già che si sa chi sia questo socio. Ha già fatto tutto, ha già in mente tutto il meccanismo, vedremo se sarà così. Bisognerebbe scriverlo, metterlo su una busta e darla a un notaio, fare come... Vetri nelle polpette per uccidere i cani del canile, la segnalazione è fatta da un cittadino, l'assessore Serfilippo è un gesto ignobile. La pagina di Fano del Corriere Adriatico, tanti problemi, altro che l'Isippo, la marineria e l'idea di lasciare la statua Malibu in cambio del dragaggio del porto. Pezzolesi, il direttore della Comarpesca, dovesse tornare da noi avrebbe inizio una infinita serie di litigi su ogni aspetto. Giovane spaccia vicino alla discoteca, arrestato, si tratta di un 21enne di Cagli, sorpreso con 40 grammi di marijuana e coca, cocaina, no, coca cola, nei pressi del Verde, che è la discoteca di Calcinelli. Ancora dal Corriere, fondi e attrezzature sportive a Monte Felcino per il centro che si occupa di 17 ragazzi alle Ville, una gara di solidarietà per questo centro. E poi ancora da Pesaro, fondi per l'emergenza, vigilate sul riparto. L'assessore Galuzzi e 30 sindaci chiamano i consiglieri regionali, a rischio edifici scolastici e fiumi. Per la neve del 2012, Pesaro e i comuni interni, maggiormente colpiti, devono avere la priorità, soprattutto per avere questi soldi, questi fondi. Interquartieri senza galleria, un solo tratto a quattro corsie, previsto un nuovo percorso che si colloca fra l'area dei campi da tennis e la collina della Baratov. E ancora, sempre sulla pagina di Pesaro, del Corriere Adriatico, nell'Aula dei Consigli Congiunti, le voci delle vittime delle foibe. Ieri c'è stata la giornata del ricordo, sia Fano che Pesaro. Poi il ballottaggio, poi la vittoria, Pazzaglia, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, niente alleanze, tanto lavoro, partecipazione e confronto. Da Fossombrone, Multiservizi cessi la richiesta di soldi non dovuti all'utenza, protestano i cittadini, interrogazione di Savelli alla provincia. Andiamo per chiudere sulle pagine del messaggero. Allora, il Partito Democratico minaccia adesso di boicottare i seggi. Pesaro e Ascoli, che sono pro Luca Ceriscioli, minacciano di far saltare le primarie e oggi la Commissione di Garanzia si esprime sulla legittimità della data. Sono le garanzie per trovare i candidati che si sfideranno per il segretario regionale del PD. Sull'ospedale unico, invece, nodo politico, vedete Aldoricci con Mezzolani, l'ultimatum del sindaco alla regione mette a nudo non solo carenze di fondi. Sulla Tasi, tetto basso ma detrazioni a rischio. La pagina di Fano, invece, del messaggero, lanciano al canile polpette con pezzi di vetro, la denuncia dell'Associazione Melampo, l'assessore Serfilippi condanna, gesto odioso e ignobile. Sulla piscina, invece, la gestione resta la Fano un fortuna e si rimane in attesa, dunque, della decisione del Consiglio di Stato, mentre lo sciopero al gruppo Ferretti, che ha coinvolto non solo Forlì, ma anche Mondolfo, adesione oltre il 90%. Ragazze su di giri, invece, al volante, ubriache, in sostanza, via le patenti e multa l'assalata. Sono state tre quelle che hanno dovuto ridare la patente agli agenti della Polizia Stradale e chissà quando la rivedranno. Il Comune, invece, verrà incontro ai residenti. Sull'interquartieri a Fano, l'assessore Falcioni rassicura, barriere antirumore, misure contro lo smog e limite dei 30 all'ora per le richieste, ma il cantiere non si può ormai mai più fermare. La destra, invece, niente appoggio a Giancarlo Danna, la destra di Federico Sorcinelli, che è il suo segretario provinciale, si chiama fuori da ogni eventuale appoggio, anzi, mena giù duro, perché dice, per noi, per tutti noi, Giancarlo Danna ha la credibilità, la sua credibilità è scesa sotto zero, non lo vogliamo più nemmeno vedere, neanche dipinto. Questa è la polemica di queste, ovviamente ne sentiremo ormai da qui in avanti, in abbondanza, anche perché le alleanze, non so se sono davvero finite, o c'è ancora qualche movimento. Poi, da peso, veramente l'ultima, siamo in ritardo, sul Partito Democratico, il terrore di Ucchielli è di andare alle primarie, Ucchielli potrebbe diventare il sindaco di Vallefoglia, però adesso per lui potrebbe venire fuori l'incognita delle primarie, con rivale Formica, mentre a Cartoceto il centrodestra candida Enrico Rossi. E con questo chiudiamo qui la nostra segna stampa, grazie per la vostra cortese attenzione, attenzione, ci vediamo oggi pomeriggio alle 16, in diretta dalla Cattedrale di Fano, per il Rosario e poi la Messa per tutti i malati, e questa sera alle 20.30 con Occhio alla Notizia. Buona giornata a tutti, arrivederci. Grazie a tutti.